Sono tornati insieme Michelle Unziker e Tommaso Trussardi. È Alfonso Signorini a lanciare l'indiscrezione, che sul settimanale chi spiega che la conduttrice e il padre delle sue figlie più piccole si sarebbero riavvicinati, dopo un lungo periodo di rottura. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, dopo mesi di lontananza in cui sia Michelle che Tommaso hanno avuto altre relazioni. Nel gennaio 2022 era arrivata la notizia della separazione dopo sette anni di matrimonio. Poi la conduttrice aveva frequentato brevemente Giovanni Angiolini, ortopedico ed ex Geffino. Tommaso Trussardi è stato fotografato dai paparazzi a Milano, mentre entrava nell'appartamento dove vive l'ex moglie Michelle Unziker. Secondo il racconto del settimanale chi, il 39enne sarebbe rimasto a casa della conduttrice e madre delle sue due figlie celeste e sole, per tutta la notte. I fotografi presenti lo avrebbero immortalato alla sua partenza il giorno successivo. Ad annunciare la fine del matrimonio sono stati Tommaso Trussardi e Michelle Unziker con un comunicato diffuso dall'Ansa. Nel mese di marzo, i paparazzi hanno avvistato la conduttrice in compagnia dell'ex concorrente del grande fratello Giovanni Angiolini. La foto del bacio era inequivocabile. I due hanno vissuto un'estate bollente. Gli scatti che ritraevano le loro effusioni finirono sui giornali. A fine agosto, la notizia della rottura. Chi ne rivela cosa sarebbe successo dopo? In particolare, al centro del ritorno di fiamma tra Michelle e Tommaso c'è la gravidanza di Aurora. Sì, sì, perché Aurora e il patrigno, dopo un inizio idilliaco, si erano separati e, soprattutto nell'ultimo periodo, il loro rapporto si era quasi ridotto al semplice ciao. Oggi, però, è tornato il sereno anche tra loro due. Un motivo in più per ricomporre il quadro familiare che si era spezzato. Con la consapevolezza che l'amore, quello vero, no, non è mai finito. Bocche cucite, al momento, da parte dei diretti interessati, ma sappiamo che la costruzione di questo nuovo amore non può essere negata.